Sul centro nord Italia permangono condizioni di instabilità legate alla presenza di un nucleo di aria fresca in quota e alla permanenza di un flusso umido dei bassi strati dell'atmosfera. Nelle prossime ore pressione di nuovo in aumento. In Toscana sabato 20 agosto sereno poco nuvoloso con addensamenti mattutini sulle vallate e sulle pianure. Nel pomeriggio moderato sviluppo di nuvolosità cumuliforme. Non si escludono locali rovesci o brevi temporali. Venti deboli variabili tendenti a disporsi da ovest ma rimossi in graduale attenuazione sul settore settentrionale. Temperature minime in lieve calo, massime insensibili aumento. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso fino a molto nuvoloso con locali temporali. Allucche sulla piana, temperatura minima 18, massima 30 gradi. A Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 15, massima 28. A Via Regge sul litorale minima 19, massima 28 gradi. Domenica cielo sereno o velato con sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio.